li ha spianati tutti adesso puoi scendere scendiamo tutti da qua no perché quello sennò lo lascio in giro è facile ributta dentro ma adesso scendiamo non ti che lo dice la bucala di fianco di fianco come si è scesi noi l'abbiamo portato mago tu scendi con me come no mi abbandoni nel posto del pericolo dentro in mezzo ma ne mette assù dai tanto dai è bello spampi va l'accompagnata tutto adesso ma qua scendi da lì io scendo da qua io sono sceso da lì e sono andato di là c'hai ragione non ho fatto il giro è vero sono sceso lì e sono andato dritto dopo ti ammazzi su quello lì il rotondo ma fa niente sono arrotondate le mie scusate quando vedo una roba del genere se si scivola oh impressionante ma scendere comodo quindi marco tu vieni giù con me no come no vai indietro ancora dal sasso bianco che palle oh facciamo questo guarda a scendere allora ce l'ho là in mezzo ai sassi in studio la mazza perché ho rotto quattro cinque sassi e quindi ce l'ho appoggiata se mi ricordo te la porto dietro la portiamo qua eh corta come fai ma va pesa dieci quintali con il mastello lì la avanti non puliamo oggi no guarda cosa ce l'ha e avanti ce ne giù altrettanti purtroppo dai avete fatto il vostro dovere per tutto l'anno su abbiamo fatto ma non salite dalla rampetta a piedi no quell'altra mi sembriamo mi sembriamo i carcerati che tornano dopo che li hanno portati fuori nell'ora d'aria come i cartoni animati ma sono quasi stufo ma sono quasi sono quasi stufo sei stanco Marco ma ti sei divertito dai